40, Arm Panucchi, con numero 41, campione del Belgio, Under-23, Joachim Van Raiten, eccolo Van Raiten, 42, Thomas Verrecken, Belge, equipa Lotto Sudal. Siamo convenzionalisti del giro di Lombardia Bedi, anche se i servizi d'autore non sono miei, ma sono di Enrico Magatti che negli anni 80 dirigeva il settimanale del ciclismo d'Italia, che arriva chiamato la parte internazionale, che abbassa la partita, inizia il piccolo giro di Lombardia internazionale, anche 23, chilometri, 173. Partonati dei concetti della Rautini, eccolo Lotto. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è anche ballerini, c'è Orsini, c'è Vendrame, c'è Ravasi. Seconda maglia del team Wiggins, 1.53, 1.53, 1.53, 1.53, con Sony Transit in questo istante. Ecco Celeste Granziera, giudice internazionale, presidente di giuria. La montagna con l'Evrianza, tra il Colle e la Siertoli, fare gruppo grosso, un gruppo ancora abbastanza numeroso. Vendrame, Lampre e Vanucche, più staccati il ripote d'arte Orsini e il Lariano Pagliarini. Attacco da parte di Arm, Vanucche della Lotto, belga, nato il 17 agosto e ormai addirittura d'arrivo. Ragazzo prodigio del ciclismo, 19 anni, pochi metri ancora per l'altiere, Lotto, Sodal, attacco di Arm, Vanucche. E' da lui, l'uomo del piccolo giro 2016, Arm, Vanucche. Vendrame, secondo, Björn, Lampre, belga, della Lotto e terzo, Orsini. Arrivano altri atleti e vedere un belga come Vanucche, che è nato il 17 di giugno del 97, Merce del 45, ma sono nati entrambi il 17 di giugno. Ha vinto Vanucche, Arm Vanucche, che festeggia il compleanno con Eddy Merckx. Con Hans Peters, francese della AG Dessert, la mondiale. Uno, due e tre! Arm, Vanucche, belga, nato il 17 giugno, come Eddy Merckx. Arm, Vanucche, seconda vittoria stagionale. Squadra Satelli, sedentini, Greifel. Tra poco andiamo tutti a festeggiarlo in piazza Manzoni. Tra un'atleta che ha vinto 27 gare tra i professionisti, Davide Cassani. Il Lombardio ha vinto una per Annocchi, due coppie a Gostoni. Il terzo atleta, classificato, Björn Lombrecht, belge, equipa Lotto-Sudal. Secondo e migliore degli italiani, Andrea Vendrame, Zalfa Euromobil. Signore e signori, attenzione, al termine dei 163 chilometri, primo classificato vincitore dal Belgio, Arm Vanucche. Lotto-Ucche, Lotto-Sudal, riceve l'omaggio floreale da Laura. L'ex corridore professionista Davide Cassani, attualmente commissario tecnico della Nazionale italiana, premia il primo corridore classificato, Arm Vanucche, Belgio, Belgio, Lotto-Sudal. L'applauso di Oggiano, del vincitore Arm Vanucche. E ora gli atleti rimangono in postazione e in arrivo il sindaco Roberto Ferrari con Daniele Pumagalli. Il primo atleta classificato sta per indossare la maglia bianco-verde con il brand Il Piccolo Lombardia. E' il vincitore dell'edizione numero 88 del Piccolo Giro di Lombardia, Arm Vanucche, da Contri, Miandri, Belgio. Un cappello gionese. Ragazze, venite in parte! L'applauso degli sportivi per i primi tre atleti classificati! Primo al ghisello dal Veneto, Andrea Vendrame. Premio intitolato a Gian Mario Brenna. L'artista dal Conso unitamente alla famiglia Frigerio premia... Armand Vanucche! E con questo applauso il Veloclub Oggiano e la città di Oggiano ricordano Giorgio Frigerio, nobile mecenate dello sport, grande commerciante, grande imprenditore, grande appassionato di ciclismo. Grazie! 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 Sì! Andiamo! Grazie! Grazie a tutti! Grazie.